Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto il blocco dello sbarco dei migranti dalla nave Ocean Viking in corso al porto di Salerno per la presenza di un numero elevato di casi Covid. Non senza rilevare che non c'è stata nessuna comunicazione preventiva, il presidente De Luca ha decretato lo stato di quarantena per tutti gli occupanti della nave in attesa dell'intervento dell'autorità sanitaria marittima. La Ocean Viking ha tratto in salvo nei giorni scorsi nel Mediterraneo 387 migranti, di cui 149 sono minori non accompagnati, 209 uomini e 29 donne.